Il modello digitale di elevazione è uno di quei prodotti che il software di fotogrammetria a GSoft Metashape nella sua versione standard non è in grado di produrre. E allora in questo video ti faccio vedere come puoi utilizzare altri software se hai la necessità di creare un DEM a partire da un output di Metashape standard. La cosa importantissima però è che prima di generare il DEM con la nuvola di punti, perché tratto la nuvola di punti, questo dato prodotto da Metashape standard sia trattato da qualche parte in qualche modo per dargli affidabilità, perché quello che ti crea Metashape standard è una nuvola di punti che manca completamente di georeferenziazione, di orientamento e di scalatura e quindi da un punto di vista tecnico è un dato completamente inservibile. Quindi non ti parlo di questo step in questo video, ti metto il link a un video in cui ne parlo e vado direttamente allo step 2, alla creazione del DEM a partire da una nuvola di punti prodotta da Metashape standard ma sistemata preliminarmente. Il software che ti faccio vedere sono due, uno è Cloud Compare che peraltro è il software che ho utilizzato e che ho utilizzato anche nel video che ti linko per sistemare nello spazio 3D la nuvola di punti, è un software open source per gestire dati tridimensionali, specificatamente nuvola di punti e l'altro è QGIS che è un software sempre open source che gestisce dati principalmente raster ma che sta andando verso il 3D legati ai sistemi di riferimento in maniera molto ordinata secondo livelli, secondo dei database che sono collegati alle informazioni. La nuvola di punti che vedi qua dentro Cloud Compare è la nuvola di punti sistemata prodotta da Metashape standard e rototraslata nello spazio tridimensionale sulla base delle informazioni di questi punti. Come vedi ci sono dei target nella scena che ho messo in campo prima di scattare le fotografie di cui ho preso le coordinate con un'antenna GPS e le informazioni di questi punti li ho utilizzate per sistemare, trasformare secondo sette parametri si dice, tre rotazioni, tre traslazioni, un fattore di scala, la nuvola di punti completamente sbandata prodotta da Metashape standard. Ora ho un dato utilizzabile. Su questo dato ci voglio creare un DEM, un raster, un modello digitale di elevazione. La prima cosa che faccio è ritagliare questa nuvola di punti per tenere soltanto le parti che effettivamente mi interessa trasformare in un raster, quindi faccio un ritaglio un po' veloce alla parte di alveo lasciando fuori le zone esterne anche un po' più sporche. Ora che ho il dato ritagliato utilizzo il comando di rasterizzazione dentro Cloud Compare che trovi nel menu principale associato a questa icona, questa scacchiera. Quando lo lanci ti chiede una serie di cose su cui vado abbastanza veloce ma per alcune delle quali vale la pena farci una riflessione o meglio dirci due parole. Il primo è la griglia 50 cm. Una griglia quadrata corrisponde alla risoluzione del raster. Il modello digitale di elevazione è un raster formato da dei pixel di cui qua decidi quanto sono lunghi i lati. Il lato perché è un quadrato, 50 cm. Che cosa succede quando viene creato un raster? La nuvola di punti, che è un dato tridimensionale, viene spiaccicata su un piano secondo una direzione di proiezione che decidi qua, la direzione Z, per questi scopi. Siccome la nuvola di punti ha una certa densità di informazione, per ognuna di queste celle che corrispondono a una griglia che viene stesa sulla nuvola di punti spiaccicata nel piano 2D, in ognuna di queste celle ci staranno diversi punti della nuvola. Allora il software per ogni cella prende i punti che appartengono alla cella e calcola il valore medio dell'elevazione. Quel valore medio è il valore che viene attribuito alla cella. Puoi scegliere di utilizzare anche un valore minimo o un valore massimo. Solitamente si usa il medio. Solitamente. Ci sono casi diversi per cui si può utilizzare uno o l'altro. Se dovesse esserci dei buchi nella nuvola di punti, come è il caso qua, ad esempio in sponda sinistra, di un buco abbastanza evidente per la presenza di un albero, puoi scegliere di interpolare il risultato, ossia far calcolare comunque al software dei valori di elevazione per quelle celle prendendone le informazioni da quello che gli sta intorno e quindi cercando come meglio può di riempire i buchi. Questa non è una roba che si fa sempre, perché alcuni casi possono essere un po' più difficili di altri. Una volta che hai finito Update Grid, ti viene fuori questa specie di bandiera che in realtà è legata all'area che viene utilizzata per creare il DEM, ossia il software prende la nuvola di punti, la proietta sul piano XY, ne calcola l'inviluppo 2D, cioè disegna un rettangolo che contenga la nuvola di punti e crea il raster sulla base delle informazioni che sono contenute all'interno di questo rettangolo. Quindi ci sono delle zone, che sono queste rosse, dove c'è effettivamente un punto della nuvola che permette uno o più punti, che permettono di contribuire alla formazione del raster. Ci sono delle zone che per quanto io gli abbia detto di interpolare sono troppo prive di informazioni e il software a queste celle associa il valore meno 100 che ho deciso io. Il raster non esiste ancora, lo devi creare cliccando su questo pulsante raster, devi essere sicuro di aver messo la spunta almeno su Export Aids, quindi asporta le altezze, gli dai ok e definisci dove vuoi definire, dove vuoi mettere questo file, lo chiamo demcc, l'unica opzione che Cloud Compare ti mette a disposizione per il formato di file del raster è il geotiff, salvi, e lui ha creato un raster che per la cronaca pesa 370k, quindi molto poco. È vero che questa nuvola di punti non è molto numerosa, sono 4 milioni di punti. Qua posso chiudere. Ti faccio vedere il raster portato dentro QGIS che a mio avviso oltre a essere il secondo software che ti faccio vedere è il software più indicato per vedere questa tipologia dei dati. Quindi se prima vedevamo rosso e blu, adesso vediamo bianco e nero ma la sostanza non cambia. Questo è un dato legato al raster, associo il sistema di riferimento al dato raster, associo il sistema di riferimento al progetto e gli associo il sistema di riferimento delle coordinate dei punti che ho utilizzato per sistemare la nuvola di punti dentro Cloud Compare e dargli affidabilità. Le conosco quelle coordinate e quindi faccio legare tutto quanto, faccio trainare tutto quanto da quelle coordinate dei punti. Se il raster te lo faccio vedere nella vista il shading che è una sorta di pseudo tridimensionalizzazione di un dato 2D attraverso l'ombreggiatura delle celle, vedi chiaramente quali sono le parti occupate dalla nuvola di punti e riesci a distinguere il raster e le forme del terreno per quanto il raster sia un dato 2D e poi ci sono le zone esterne dove lui non è riuscito a creare un'informazione di elevazione consistente e gli ha attribuito quel valore meno 100. Dentro QGIS puoi ritagliare questo raster per tenerti soltanto la parte che ti interessa. Ti faccio vedere come è fatto questo raster e vedi che è fatto da una serie di elementi quadrati di cui se gli misuro il lato dovrebbe tornare una roba di 50 centimetri. Eccolo qua pixel più pixel meno e se chiedo a QGIS di dirmi le informazioni associato a ciascuna cella di questo raster, ci clicco dentro, lui mi dice che ogni cella, di ogni cella conosce il centro, le coordinate sono queste, il punto d'incontro delle diagonali di questi quadrati e poi per ogni cella c'è associato un valore di elevazione 5432 in questo caso che è il valore medio di tutti i punti della nuvola di punti che originariamente ricadevano all'interno di questa cella dopo la proiezione sul piano XY e di cui lui ha calcolato la media. Questo è il raster. QGIS però ti mette di per sé a disposizione degli strumenti per calcolare un raster a partire da una nuvola di punti. Ci sono diversi strumenti per calcolare un raster a partire da informazioni discrete dentro QGIS. Di fatto la nuvola di punti è un insieme di informazioni discrete perché se io tornando in Cloud Compare zoom nella nuvola di punti vedo i punti ma a un certo punto mi rendo anche conto che questi punti sono distanti seppur poco uno dall'altro quindi sono degli elementi discreti nello spazio. QGIS ha a disposizione degli strumenti che ti permettono di trattare dei dati vettoriali o delle nuvole di punti direttamente. Se vuoi passare attraverso i dati vettoriali dovrai trasformare questa nuvola di punti da file di nuvola di punti con un'associazione di file specifica a un dato vettoriale più digeribile da QGIS che ha lo shapefile ad esempio ma puoi utilizzare dei plugin, un plugin nello specifico con una serie di tools annidati al suo interno che ti permette proprio di trattare la nuvola di punti nel formato LAS. Prima di farlo ti consiglio di fare una riflessione su quella che è la nuvola di punti che stai trattando e l'esigenza in termini di risoluzione del raster che vuoi generare. Si dice che un raster è molto risoluto quando la dimensione delle maglie della griglia sono piccole, la dimensione della maglia della griglia è piccola, viceversa a una maglia grande corrisponde una risoluzione peggiore. Se io voglio creare un raster la cui griglia abbia un passo di 50 centimetri posso pensare risparmiando fatica e tempo a QGIS di trattare sempre in Cloud Compare questa nuvola di punti preliminarmente in modo tale che sia più leggera ma comunque sufficientemente consistente per creare il raster che mi interessa. C'è uno strumento dentro Cloud Compare che si chiama subsample point cloud che trovi qua che fa proprio questo, sottocampiona la nuvola di punti permettendoti di sfrondare dei dati che per la tua elaborazione successiva sono esagerati. Gli dico di creare una nuvola di punti dove la spaziatura in output tra i punti sia di 10 centimetri che è sufficiente per crearmi un buon dem prodotto finale con passo 50 centimetri. Gli do ok, lui mi crea una nuova nuvola di punti quindi la salvo, la salvo come standard mod, gli do un underscore cut perché è stata tagliata e un underscore 10 perché identifico il passo come 10 centimetri. Il formato di file che salvo è il LAS perché QGIS con lo strumento plugin LASTool è in grado di gestire i file di estensione LAS. Adesso vado su QGIS. Il plugin LASTools appartiene al mondo dei plugin che sono legati a QGIS che sono una serie di accessori esterni che si agganciano al motore al cuore di QGIS e fanno delle cose extra che QGIS di per sé non è in grado di fare sfruttando però tutta la potenzialità del software. Queste sono le cose più potenti dei progetti open source. Una volta che hai installato LASTools ti linko un video in cui ti spiego come gestire, come installare LASTools perché richiede un paio di step in più rispetto alla semplice ricerca del plugin e installazione attraverso l'interfaccia di QGIS. Una volta che l'hai installato e l'hai reso funzionante ti ritrovi LASTools come una directory all'interno degli strumenti di Geoprocessing che ha al suo interno delle altre directory che hanno all'interno a loro volta dei compiti, dei task specifici raggruppati per tipologia. Quello che interessa a te è la directory file raster derivatives, cioè crea dei derivati del nuvolo di punti in termini di raster. Utilizzi il comando LASTODEM quindi da file LAS a DEM. Selezioni il file della nuvola di punti in formato LAS che è questo. Come vedi il peso interessante perché il file che ho ritagliato e sottocampionato pesa 20 mega rispetto ai 500 del file non ritagliato e non sottocampionato. Quindi è un bello sgravi dal punto di vista del calcolo del tempo di elaborazione per QGIS. Gli dici come vuoi che sia la griglia di questo raster 50 centimetri e poi gli dici ok corri, fai. Lui fa molto presto perché questo sottocampionamento lo ha aiutato. Mi ha creato un file ASCII, sto guardando dall'altra parte, che pesa praticamente lo stesso rispetto al file raster TIFF creato da Cloud Compare. Lo porto all'interno di QGIS. Gli devo attribuire il sistema di riferimento. O l'ha già preso? No, quindi gli devo attribuire il sistema di riferimento. Layer current reference system. Ok, 6707. Vedi, si va a mettere sopra a quello che esiste già. La cosa interessante è che questo raster è già ritagliato e quindi non mi prende le zone esterne molto più comodo rispetto a quello che non ha fatto QGIS nella produzione del raster secondo questo inviluppo rettangolare. Anche questo, se lo vado a vedere come vista il shading, apply, mi descrive l'ambito territoriale che è occupato, di cui è rappresentativa la nuvola di punti, andando a pescare l'informazione direttamente dal file LAS. Quindi in questo video ti ho fatto vedere due strumenti QGIS open source e Cloud Compare open source per trattare la nuvola di punti prodotta da Metashape standard e creare un raster. Magari ce ne sono altri gli strumenti che fanno proprio questo. Prendono la nuvola di punti e ci creano un raster. Se ne conosci, se li usi, magari se sono liberi, se sono open, scrivilo nei commenti che è sicuramente utile anche per in primis per me, ma anche per chi guarda e legge i commenti legati a questo video. Spero in qualche modo di essere stato utile. La prerogativa è che la nuvola di punti esportata da Metashape standard deve essere trattata per dargli affidabilità, altrimenti tutto il castello cade. Se non sono stato utile fammelo sapere perché in questo modo mi dai degli spunti per migliorare i contenuti, grazie ai tuoi feedback. Se invece pensi che questo video sia stato utile e pensi che possa essere utile anche a qualcun altro, io lo puoi condividere in questo modo mi aiuti a far crescere questo progetto. Mi puoi contattare su Telegram at Paolo Corradeghini o connetterti con me qua a sinistra ai miei contatti social. Se hai degli spunti, se hai delle idee, se hai delle suggerimenti per dei nuovi contenuti, mi fa molto piacere, anzi ti ringrazio anticipatamente. Se poi pensi che questo progetto sia interessante e valga la pena supportarlo, il progetto di Tradimetrica e della condivisione di contenuti, puoi diventare scelta libera, una finanziatrice o un finanziatore di Tradimetrica attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Patreon. In questo modo mi fai capire che questi contenuti hanno un valore e mi permetti di continuare a farli e di mantenerli liberi per tutti, grazie a chi finanzia questo progetto che posso fare questi contenuti liberi per tutti. Io sono Paolo Corradeghini, ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao!